Il decreto legislativo numero 472 del 96 In tema di cause di non punibilità concernenti l'erogazione di sanzioni amministrative, afferma che non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione del pagamento. In buona sostanza la normativa de qua offre la possibilità di disapplicare una sanzione non penale qualora la violazione derivi da circostanze di incertezza oggettiva, tali da ammettere interpretazioni diverse o che possano ostacolare l'individuazione certa di un significato sufficientemente definito.